Buonasera a tutti. Allora, siamo pronti? Facetemi un santino. Don Felice Shoshamokka. Felice Shoshamokka è un'eredità importante. Un'eredità è una rendita. Tuo figlio, tuo figlio e tuo figlio. E forse più annanza dovete recitare tutto quanto Shoshamokka. Non c'è scavo. Non c'è scavo. Tre sono i nostri figli. E allora dobbiamo farneva che figli, che figliastra. E noi siamo i fratelli da Filippo. Non ci dobbiamo mai dimine. Basta! Secondo me vuol fare la parodia, che stai perfetto. E allora, ecchia, che stai d'annuncio. E allora, io so scarpetta. Ora basta! 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 D'annuncio è sacro! E non ci tocca! Abbasso scarpetta! Scarpetta! Si aspettava di essere rinviata a giudizio. La mia non è una contraffazione, è una parodia. Tante causa a me, come se fossero delinquenti. E state rimboscate. A forza mia! E ho pubblico! Lo saccio. Non so nessuno. Ma so viva. Gloria ai nostri figli. E a pace chi ci può male. Condannando me! Condannate un'intera forma d'arte! Di parlare a Provasi. Di parlare a Provasi. Per me tutti questi discuti sono vane. Non esistono teatri, più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Alla prossima... Alla prossima! Grazie.